Milena è un tripudio oggi, finalmente siamo di nuovo campioni d'Italia! Siamo felicissime perché è stato un percorso sudatissimo, sofferto e siamo felici veramente! Un finale da thriller con la vittoria contro il Bari arrivata all'ultimo minuto, c'è stato da soffrire fino all'ultima giornata ma questa squadra ha avuto la capacità di non solo recuperare 5 punti ma darne poi 7 nel corso dell'anno, 12 in totale quando si era meno 5 a gennaio! E' stato un campionato difficilissimo, bellissimo, sofferto e questa vittoria veramente ce la stiamo gustando tantissimo, penso che la svolta sia stata il gol di Girelli contro il Bari, è lì che c'è stata la svolta l'1-1 e queste ragazze sono state eccezionali perché siamo arrivate stanche, stanche però si meritano tutto questo! E' stata fantastica questa stagione! E' stata una stagione fantastica, veramente mai avremmo pensato una stagione del genere ma ce la godiamo tutta! Complimenti! Perché ce la siamo meritate, grazie! 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 Grazie!